buongiorno ragazzi un buongiorno un po amaro oggi però era nell'aria ciao Tommaso ciao Romano buongiorno a tutti allora Tommaso nella notte ha studiato perché abbiamo detto Tommaso dai vediamo un po cosa si può fare per i ragazzi li chiamiamo ragazzi in questo periodo anche se non sono ragazzi quindi parrucchieri cose concrete e adesso affronteremo cosa realmente si può fare oggi 12 marzo alle 14 e 12 quello che abbiamo trovato ecco una cosa ragazzi ci stanno arrivando varie richieste per diciamo noi abbiamo chiesto già tre giorni fa tre tre giorni fa che abbiamo detto che la pagina era a disposizione per chi volesse fare dei corsi di formazione piuttosto che è gratuito e tutto il resto adesso sta scoppiando la moda va bene ci stanno chiamando delle persone noi diamo lo spazio ok ma diamo lo spazio esclusivamente persone che vogliono fare contenuti per i parrucchieri che ovvero che non vogliono farsi pubblicità gratuita poi va da sé che se dovete fare non lo so volete offrire la spiegazione di un servizio tecnico in particolare usate il vostro prodotto di quell'azienda lo dite non c'è nessun problema ma che sia una cosa spam no e quindi ve la rifiuteremo sempre chiusa parentesi ecco detto questo andiamo avanti allora tommaso allora era nell'aria il decreto è arrivato e a questo punto è un atto di buon senso voglio dire come noi nei giorni scorsi eravamo schierati apertamente nei confronti dell'opinione di restare chiusi anche se c'era l'incertezza può non può lavorare il parrucchiere la distanza è arrivato definitivamente non ci sono più dubbi non c'è più interpretazione ieri sera il presidente del consiglio ha detto chiaramente parrucchieri estetiste chiusi ok e questo è acclarato quindi tutto è che ci torniamo sopra da anni eccetera eccetera quindi non piangiamoci addosso il momento la situazione è questa prendiamo ne atto cosa facciamo adesso ok questo concetto di cosa vogliamo fare cosa si può fare in questa diretta di oggi beh allora partiamo dal preso opposto io credo che tutte le persone che ci seguono in questo momento anche dai commenti che abbiamo ricevuto nei giorni passati siano molto molto preoccupati dal fatto di essere chiusi non poter lavorare di conseguenza non poter incassare per far fronte a quelli che sono i pagamenti che dovrebbero che devono onorare nelle prossime settimane o nei mesi successivi e quindi dal qui cosa lo stato cosa fa farà non farà eccetera cosa non farà cosa farà cosa non farà lo possiamo soltanto sperare ci sono indicazioni in giro in questo momento anche articoli che compaiono sulla stampa sui quotidiani più accreditati che riportano di interviste dove sembra che vengano attuate una serie di manovre finalizzate ad aiutare tanto le imprese quanto i cittadini ok ora sicuramente però finché non verrà fatto un decreto specifico e non ne conosceremo nella sua totalità il testo per noi in questo momento ancora non esiste nulla perché nulla di concreto è stato varato e approvato quindi ragioniamo facendo finta che non c'è nulla e che però siamo fiduciosi e ci aspettiamo che qualcosa venga fatto dal governo italiano cosa hanno fatto oggi però gli altri allora prima di tutti riferisci all'articolo che adesso 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 ci arriviamo aspetta un attimo che ci arriviamo con calma io direi che la primissima cosa che devono fare i nostri amici è iniziare a mettere finalmente il naso in quelli che sono i costi della loro gestione che è un aspetto che molto spesso nella nella gestione di un salone d'acconciatura piuttosto che un centro estetico cioè di chiunque lavori nell'ambito del beauty chiamiamolo così prende un po' sotto gamba invece in questo invece è un perno fulcro di gestione la gestione corretta parte sempre dalla gestione dei costi ecco è arrivato il momento in cui adesso bisogna visto che incassi non se ne producono perché a lavorare non si può comunque andare è arrivato il momento di prendere in fortissima considerazione i propri costi di gestione di acculturarsi di più su alcuni aspetti di andare ad analizzarli uno a uno quali sono e di creare uno scadenziario allora la prima operazione che devono fare i nostri amici in questo momento chi usa un software gestionale sarà sicuramente avvantaggiato se all'interno del suo software gestionale ha tutta una parte relativa a quella che viene chiamata la prima nota ovvero la memorizzazione dei costi e dello scadenziario dei pagamenti chi invece non ce l'ha o non l'ha mai utilizzato sotto questo aspetto deve raccogliere come minimo tutti i costi nelle varie date in cui dovrà sostenerne il pagamento da qui ad almeno i prossimi 60 giorni come come prima come prima scrittura da riportare da analizzare almeno i prossimi 60 giorni e fare una valutazione se fossero anche 90 meglio ancora e fare una valutazione di quali voci di costo di quali importi a chi e in quale data deve essere effettuato il pagamento allora prendiamo coscienza di quanti soldi dovranno uscire dal conto corrente del nostro negozio da oggi ai prossimi 60 meglio ancora 90 giorni per affrontare il problema bisogna prima conoscerlo è il problema del coronavirus stiamo affrontando un problema che di fatto ancora oggi non conosciamo bene fino in fondo allora lì non ci si può fare nulla nella gestione di un salone d'acconciatura di un centro estetico si può fare benissimo prendete tutte le fatture che avete prende di chiunque segnate gli importi segnate a chi va pagato quell'importo in quale data tirate le somme e per fornitore e per voce di costo e per il totale dei soldi che devono uscire ok quindi voi avete voi adesso dovete fare avete la fattura perché avete comprato il nuovo casco il nuovo lavatesta il arrivano i prodotti arriva la fattura del corso di formazione che poi magari quello non si può fare non lo so segnate tutti questi costi all'interno di qualsiasi documento allora se uno ha un software gestionale meglio se uno sa usare excel meglio ancora che lo faccia in excel così può fare anche i calcoli all'interno di excel se non hai un gestionale non sai usare excel piuttosto che niente meglio piuttosto usa carta e penna e poi qualcuno te lo riscriverà ma ma fatti ma fatti una tabella precisa di quelli che sono i costi che devi sostenere a chi li devi pagare l'importo e quando lo devi pagare in che data lo devi pagare prendi coscienza di tutto quello che sarà il flusso di danaro in uscita dalla tua attività ok e questa è subito stato scrivendo poi adesso ci arriviamo Angela calma ragazzi un attimo allora oltre a prendere conoscenza di quelli che sono i costi e gli importi ok perché avete le fatture del fornitore via di seguito avete anche una serie di altre di pagamenti che probabilmente non sono relativi a delle fatture dei vostri fornitori qualcuno avrà un leasing qualcuno avrà un finanziamento qualcuno avrà un mutuo o quant'altro allora bisogna segnare anche queste queste tipologie di uscite nelle varie scadenze ed ecco che arriva quello che dicevamo prima relativamente a questo relativamente a questo voi potete aderire a quella che è presente se puoi far vedere la pagina aspetta che mi hai mandato tutti coprirà però ok sono interessanti io è più interessante l'informazione allora aspetta che fa un po fatica a attaccarsi non so perché sito abbi ovviamente c'è sempre qualcosa che non va ecco qua ce l'abbiamo fatta arrivata sì sì allora ok fonte ufficiale abbi www.abi.it l'abi è una fonte sicuramente ufficiale è l'associazione bancaria italiana per chi non lo sapesse è l'equivalente per voi della vostra associazione di categoria è l'associazione delle banche italiane e al cui interno ci sono anche diversi istituti di credito quindi società di leasing finanziarie e via di seguito se andate a vedere sul sito dell'abi proprio negli ultimi due giorni infatti l'articolo è datato 10 marzo 2020 è stato raggiunto un accordo tra l'abi e le varie rappresentanze delle varie associazioni di imprese quindi sicuramente gli artigiani la con commercio e quant'altro per fare un'operazione di sospensione dei pagamenti e specifichiamo anche tra breve in quale forma relativa a mutui e finanziamenti e anche operazioni di leasing ti interrompo un attimo l'accordo leggo perché magari per qualcuno è piccolo che segue dal cellulare l'accordo è stato sottoscritto da abi alleanza delle cooperative italiane con agc cooperative lega coppa cia agricoltori italiani c l a a i col diretti confagricoltura confapi confedilizia confetra confimi industria confindustria rete imprese italiane casa artigiani cna che penso che sia quella che interessa loro confartigianato confcommercio confesercenti questo poi magari si è aggiunta che qualcuno in più si potesse essere possibile comunque praticamente tutti praticamente tutti allora diciamo che tra confartigianato e cna caschiamo in pieno all'interno di chi ha aderito allora cosa vuol dire questa cosa vuol dire che se io sono un parrucchiere che ha un finanziamento aperto con la mia banca piuttosto che con un'altra banca ancora con cui lavoro con cioè con un istituto di credito ok sicuramente una banca io posso chiedere la sospensione per un anno per un anno del mio finanziamento come funziona la sospensione attenzione non pensiate però che non pagate del tutto la rata del finanziamento vuol dire che se voi pagate un finanziamento di eh 500 euro al mese di cui adesso di numeri sparati eh come sempre perché non sto qua a far calcolo l'abbiamo perso l'abbiamo perso nel momento topico adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo ragazzi dovete avere un po' di attenzione sembra fatto apposta però vediamo se Tommaso torna io vorrei esservi più utile però dovete patentare un secondo vediamo un po' se riusciamo a richiamarlo Tommaso Tommaso non ci sei suona dovrebbe ritornare ok Tommaso si stiamo recuperandoti mi sa che sono caduto dal il bello della diretta ragazzi dovete avere un po' va bene ci sei tanto ti sentono Tommaso guarda non c'è ti sentono ok ok allora dicevo quindi questo cosa vuol dire vuol dire che eh non pagherò l'intera rata del mio finanziamento ok ma pagherò eh soltanto la quota capitale perché un finanziamento è composto dal capitale che avete chiesto la rata è composta da una restituzione del capitale che avete chiesto dei soldi che avete chiesto più la parte di interessi quindi se io ho 500 euro di rata mensile questa sarà fatta per 450 460 euro di capitale che non restituirete per 12 mesi restituirete mensilmente soltanto 30 40 euro al mese che sono gli interessi sul capitale sulla somma che vi siete fatti prestare e direi che potrebbe essere un grossissimo aiuto questa cosa a me in questo eh anche perché ragazzi in questo momento qualsiasi operazione andiate a fare è di grandissimo aiuto e mi vengono in mente tutte quelle persone che ok in difficoltà di tanti altri piuttosto che chiunque abbia fatto un finanziamento per investire nella sua attività tipo rinnovare i locali eh piuttosto che fare una qualsiasi cosa allora chiunque ha un finanziamento aperto in questo momento grazie a questo accordo può andare a stipulare questa eh può fare questa richiesta alla sua banca di sospendere la restituzione delle rate relative al capitale per 12 mesi direi che non è poca cosa ovviamente questa è una cosa che possiamo fare adesso già da subito sì come ci fanno uscire di casa diciamo ma ascolta puoi anche alzare il telefono e iniziare a chiamare in banca anche senza uscire di casa voglio dire lo dico perché qualcuno avrà sicuramente qualche difficoltà nel senso noi abbiamo voltato il telefono stamattina per un'altra cosa la filiale era chiusa però ragazzi comunque il 3 aprile per forza si ripartirà in un modo o nell'altro se non prima speriamo certo indubbiamente allora però questa è una primissima operazione che si può fare si può anche mandare una mail in banca se si hanno degli indirizzi mail a cui scrivere bisognerebbe conoscergli gli indirizzi mail eh della della propria banca ehm aspetta vedere se scordarti il video sì no vedi se riesci no guarda se riesci ad attivare la tua camera di nuovo perché adesso sei in modalità di emergenza è quello che è quello che sto cercando di fare però purtroppo mi è partito intanto io ti leggo io ti leggo io i commenti sì quindi allora dici che sei Maria Calveria Tommy sei più avanti dei nostri commercialisti questo è il primo commento grazie Maria ringrazio però non non le cose commerciali sono avanti anche loro e anzi sicuramente anche più di me però loro si occupano l'aspetto più fiscale più della gestione dei negozi e sono qua apposta per darmi una mano eh comunque tantissimo allora mhm tenete quindi tenete conto che questa è una prima ovvio Tommaso ti sento comunque nella fiducia Tommaso ti sento davvero male e proprio adesso vediamo prova a richiamarmi per cortesia prova a richiamarmi passo passo all'iPad con la connessione ok ragazzi siamo tornati ci riproviamo con Tommaso che nel frattempo ha rubato telefoni in giro per casa per sfruttare la connessione perché adesso abbiamo tutti la buona idea che oggi dobbiamo fare le dirette no per forza perché dobbiamo dare il nostro contributo al mondo ci sono ecco se mi sentite spero di sì restiamo almeno con l'audio che è più importante quello che magari che si può dire di quello che si possa vedere diciamo che poi in questi giorni oltretutto con i ragazzi tutti a casa da scuola quando si passa l'ora di pranzo e quindi magari gli studenti che non vanno a scuola si sono svegliati e non potendo uscire si attaccano ai videogame si attaccano e le bande di connessione crollano mostruosamente mostruosamente va bene allora per darti una mano aspetta aspetta per darti una mano mi sono aperto le 85 finestre no e vado a leggere il collegamento che poi è saltato prima mezz'ora fa però ecco purtroppo allora sei sparito di video però ti sento di audio ok che hanno scritto dei commenti no dunque eravamo rimasti su coronavirus cosa possiamo letteralmente fare ragazzi sì e Tommaso aveva tirato fuori dal suo cilindro magico questa moratoria che potete trovare su www.abi.it dove è già operativa una moratoria per cui fino al 31 gennaio del 2020 c'è la possibilità di chiedere la sospensione o l'allugamento di tutta una serie di diciamo operazioni mutui prestiti eccetera eccetera corretto certo giustissimo giustissimo sì che era una cosa che c'era già che era già stata fatta anche anni addietro è stata prolungata ecco vorrei che leggessimo però un attimino la specifica che forse prima non abbiamo detto che per ora se ne parla relativamente a prestiti che sono stati concessi fino al 31 gennaio 2020 quindi per prestiti che sono stati concessi a febbraio sembrerebbe proprio di no poi magari cambiano i termini della cosa ma sicuramente chi ha un prestito in corso un finanziamento in corso e l'ha iniziato prima del 31 gennaio 2020 l'ha firmato sottoscritto con la sua banca prima del 31 gennaio 2020 può aderire a questa moratoria che gli permette di allungare e spostare in avanti fino a 12 mesi il congelare mettiamola così per 12 mesi il suo finanziamento ascolta si fermo Riccardo Franzetti dice 2021 2021? non lo so se Riccardo cosa intendi 2021 lui dice il sito dell'ABI dice a chiare lettere ce l'ho davanti adesso in tutta Italia è già operativo l'accordo tra Abile e associazione di impresa con cui è stata estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione all'allungamento non credo che in questo momento parlino già di chiedi un prestito ti viene concesso e lo frizzi immediatamente senza restituire una rata non è male sarebbe male potrebbe essere una grandissima manovra per aiutare l'economia a ripartire però come si dice quindi io mi attengo a quello che dice fonte certa dell'ABI poi se arrivano delle modifiche benvengano sono migliorative benvengano tutte ok io adesso ti sto leggendo ho aperto l'altra finestra quindi ragazzi non vi guardo di qua una cosa vorrei dire è valida questa cosa anche per il credito al consumo allora il credito dovrebbe essere valida anche per il credito al consumo mi informerò maggiormente e poi ve lo comunico il credito al consumo è un'altra cosa ok io ti voglio leggere i commenti che hanno scritto sul post precedente che purtroppo abbiamo dovuto interrompere per problemi di collegamento allora se non ho rate ma ho solo riba e IVA contributi come ci si può comportare? allora allora mi dice il nome dell'amico che ci scrive? Katia Zani ok ciao Katia non posso metterlo in sovraimpressione ma ragazzi se guardate il post precedente vi assicuro che è vero l'ha scritto dovete prendere per buono quello che vi dico io ok allora ciao Katia innanzitutto se non hai prestiti allora se non hai finanziamenti in corso ovviamente questa cosa non ti interessa il discorso di se ho riba a scadenza se ho pagamenti a scadenza mi ricollego a quello che stavamo dicendo nella prima parte della nostra diretta ovvero che è doveroso che per prima cosa tu faccia quell'esercizio che ho detto prima di segnarti tutte le scadenze da qui ai prossimi due o tre mesi chi sono e quanto li devi pagare in che data lo devi pagare per quanto riguarda le riba l'unica cosa che puoi fare è iniziare ad alzare la cornetta contattare i tuoi fornitori ed eventualmente cercare di pattuire con loro una dilazione di pagamento diversa salta dentro Fabio Caliman ciao Fabio io ho sospeso il mio finanziamento ieri mattina e aggiungo aggiungo che sul post precedente Serena Fabbrini ha detto è automatica hanno già sospeso persino le bollette andate sul sito del Consiglio dei Ministri questa è una news che diamo e noi ci andiamo sul sito vai sul sito del Consiglio dei Ministri così vado vado subito così leggo e aspettiamo vedete ma le cose sono in divenire cioè sono in continua evoluzione diciamo in continua evoluzione ovviamente allora Riccardo Franzetti tanto scuse mi intendevo che c'è tempo per rinviarli fino al 2021 aveva capito male scusa l'errore ma figurati ragazzi ragazzi grazie che ci state scrivendo non scherziamo allora 11 marzo 8.20 se la nostra amica io sto andando sul sito del Consiglio dei Ministri lui intanto Fabio Calliman ha sospeso il finanziamento l'ha sospeso per tre mesi ecco non è che siete virgolette avete una scelta tutto l'anno non sospendo e poi dopo magari l'anno prossimo verriva da pagare una rata più importante oppure magari uno dice soltanto prevedo tre mesi di periodo critico e quindi io lo sospendo solo per tre mesi poi magari potrà andare fino all'anno a seconda delle condizioni ti risulta questa cosa anche sui leasing di cose comprate? dovrebbe essere anche sui leasing cioè tipo uno ha fatto ha fatto il leasing arredamento leasing ha segnato il furgone dovrebbe poter essere valida anche con le società di leasing dipende dalla società di leasing in cui ti sei appoggiato se aderisce all'ABI o meno perché l'ABI ha fatto un accordo quadro che vale per tutti i suoi associati quindi per tutti gli istituti di credito che raccoglie l'ABI se la tua in linea di principio se la società di leasing con cui hai fatto l'operazione fa parte dell'ABI è scritta all'ABI è steso anche a lei andate sul sito dell'ABI comunque l'abbiamo messo qua e anche prima ci sono tutte le associazioni che hanno aderito intanto ritorno di qua ragazzi allora Riccardo affitti del negozio Marina Venditti devi allora affitti del negozio come tutti i costi dell'attività che non fanno parte che non sono un finanziamento o un leasing quindi possono aderire a questa moratoria a questo accordo attenzione questa moratoria dell'ABI non è una cosa che ha sancito il governo è un accordo che ha preso l'ABI con le varie rappresentanze imprenditoriali quindi l'istituto delle banche ha detto di sua sponte di sua volontà guardate che possiamo fare questa cosa ok non è una roba che esce da decreto in questo momento Valentina Ferraiolo come hai fatto come si fa fondamentalmente come si fa devi contattare la tua banca hanno loro la modulistica per poterti far richiedere la sospensione per 12 mesi fino a 12 mesi del tuo finanziamento anche mutuo finanziamento perché leggevo prima sul testo dell'ABI che specificavano che è valido anche per i mutui ok ecco intanto un importante contributo da Riccardo Franzetti intanto io questa mattina ho fatto richiesta per mutuo dell'immobile del negozio mi hanno detto che posso sospendere le rate fino al massimo fino a un massimo di 12 pagando solo quindi il massimo di 12 di fatto gli interessi quello che dicevamo prima pagando solo gli interessi e verranno addebitati in coda al mutuo quindi il massimo 12 ratti si presuppone un rata al mese di solito è così esatto quindi è circa un anno ma di solo gli interessi come funziona vuol dire che se voi avete un finanziamento in corso facciamo un esempio avete un finanziamento l'avete aperto due anni fa scade tra altri due anni perfetto voi chiedete questa cosa il finanziamento per 12 quindi il vostro finanziamento scadrà tra 36 mesi non più tra altri 24 ok ma per i prossimi 12 mesi pagate soltanto gli interessi sul finanziamento quindi una quota estremamente ridotta poi passati questi 12 mesi ripartono le rate normali ok Valentina dice che lei l'ha fatto attraverso ah no chiede se l'ha fatto lui oppure se l'ha fatto il suo commercialista credo che l'abbia fatto lui no no lo fate siete voi ragazzi ragazzi con tutto il bene che voglio i commercialisti però smettetela di pensare che i commercialisti siano i manager delle attività d'Italia non lo sono il manager delle attività gli imprenditori e i gestori delle attività siete voi i commercialisti sono bravissimi in materia fiscale e a quello servono voi dovete parlare con la vostra banca e dire il mio finanziamento che ho aperto è voglio sospenderlo per 12 mesi lo fate voi con la banca c'è un modulo di richiesta Fabio Caliver la sua testimonianza va in banca 30 minuti e lui ha fatto tutto torno a bomba mi permette di dire con Debra che ti tira le orecchie giustamente non hai finito il discorso dell'affitto eh sì arrivo scusa Debra scusaci se volete mi triplico e parlo tre volte in contemporanea però non ci riesco ancora allora Debra allora perdonami adesso ti rispondo l'affitto l'affitto fin quando non esce un decreto legge fin quando non esce un decreto legge che dice che sono sospesi anche gli affitti che sono sospesi anche i mutui ok è il pagamento è dovuto nessuno però ti vieta di mettere in quell'elenco che abbiamo messo prima l'affitto come voce di spesa da pagare al primo di ogni mese di alzare la cornetta a parlare col proprietario degli immobile e dire ascolti siamo in una difficoltà che evidente non le debba neanche spiegare qual è ci mettiamo d'accordo me lo manda per iscritto anche una mail che anche lei è d'accordo che per il prossimo mese non le pago l'affitto per il prossimo mese vediamo per quello dopo ancora cioè ragazzi allora è vero che stiamo aspettando tutti un decreto che sancisca questo per legge di diritto che si possa fare immediatamente così come a voi si spera che vi tolgano l'obbligo di pagare l'affitto il proprietario dell'immobile vuole che gli venga detto in questo decreto non paghi le tasse sopra l'immobile perché non lo stai nemmeno prendendo i soldi è una filiera è una filiera ragazzi però non toglie che si possa fare operazione commerciale di mediazione tra voi e i vostri fornitori e pattuire di spostare i pagamenti cioè il problema è uguale per tutti è uguale per tutti allo stesso modo adesso si incazzeranno probabilmente tutti quelli che vendono prodotti mi auguro di no ma capiranno che la situazione è questa il vostro fornitore che vi vende i prodotti chiedetegli di fare un'operazione molto semplice hai le riba che ti vanno in scadenza questo fine mese gli chiedete di ritirarle e di riemetterle ad una data più lunga a loro cioè è vero gliela pagherete più avanti ma loro le portano allo sconto bancario lo stesso solo che gliele pagherete più avanti chiedete di spostare i pagamenti pattuite con tutti dei pagamenti magari più allungati rispetto a prima ok intanto stanno arrivando migliaia di messaggi allora migliaia no ma invece prendere i 500 euro questa mi sfugge non ne sono cittadinanza no questa non lo so abbiamo già parlato della cassa integrazione no non ancora però non è argomento perché non siamo ne parliamo un'altra volta ragazzi io ho chiesto prima di andare in diretta questa a Romano se potessi avere la se mi fosse data la possibilità magari di fare più interventi nell'arco dei prossimi giorni no no io ad esempio vi faccio un esempio io sto aspettando perché ho già contattato dei miei consulenti sto aspettando e dovrebbe arrivarmi domani il testo completo della cassa integrazione cosa bisogna fare come funziona per poter aderire alla cassa integrazione cioè la procedura per aderire alla cassa integrazione infatti io ti ho chiesto va bene vieni quando vuoi però con notizie certe o comunque che sono state pubblicate e che sono reali poi magari oggi dici una cosa domani cambia però l'importante è che quella che stai dicendo adesso è reale perché se no stiamo facendo chiacchiere per niente esatto Leonardo dice non esiste lo sconto bancario cosa non esiste lo sconto bancario eh non lo so portare allo sconto le ricevute bancarie è un'operazione che voi parrucchieri non fate ma che fanno tutte le imprese che fanno che emettono ricevute bancarie cosa vuol dire vuol dire che quando un'azienda emette una riba una ricevuta bancaria che te arriverà tra due mesi la banca le anticipa immediatamente la disponibilità di quei soldi che tu pagherai tra due mesi questa operazione in cui la banca ti anticipa i soldi in gergo volgare tecnico eh finanziario commerciale si chiama portare le ricevute bancarie allo sconto non è lo sconto inteso come te le fanno pagare di meno è un'operazione eh con cui le aziende si finanziano in anticipo cioè le banche gli danno la liquidità in anticipo rispetto alla data di pagamento di quelle ricevute bancarie si chiama il famoso castelletto o fido bancario di cui eh una una un'azienda può godere rientra nel fido bancario che è fatto anche dal castelletto ricevute bancarie ok intanto Fabi Fabulla dice dovrebbero uscire tra domani e dopo domani i decreti per quanto riguarda la casta integrazione dei dipendenti e i famosi 500 euro per noi titolari io dei 500 euro non ne sono al corrente non ne so ancora nulla e vorrei anche precisare che prima la nostra amica che ha detto che hanno sospeso gli affitti le bollette e tutto quanto io nel frattempo che parliamo sto navigando i principali le principali fonti di informazione nonché le pagine del governo ma non trovo nulla in merito anche perché credo che una cosa di questo tipo nel momento in cui venga attuata il presidente del consiglio va in televisione e la dice ecco a naso mi piace molto il messaggio di Eli Salone che è una punta velenosa ma io mi metto dentro ma ragazzi siamo così messi male che non riusciamo a pagare un affitto anche se non lavoriamo un mese in questo caso 15 giorni c'è ragione come si chiama che l'ho perso Eli Salone Eli Eli che se ti chiami Salone di cognome non potevi fare altro che la parrucchiera se è vero però Eli ascoltami sì purtroppo la realtà è anche questa adesso non voglio portare acqua al mio mulino ma mi ha fatto molto piacere che ieri un amico come Lele Canavero abbia detto esattamente la stessa cosa che penso anch'io ovvero che molto spesso molte attività si trovano in queste condizioni anche per cattiva gestione purtroppo la gestione viene sempre tenuta in come aspetto non secondiario ma addirittura al terzo o al quarto posto nella da 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 molte persone e purtroppo poi nei momenti di difficoltà la situazione diventa ancora più grave di quella che sarebbe potuta essere proprio perché non si gestisce minimamente la propria attività poi ci sono anche vari fattori tieni conto che nel mare magno delle imprese legate al mondo del beauty c'è chi appena aperto c'è chi ha ristrutturato quindi ha una serie di cose c'è chi ha fatto investimenti cioè a volte un momento di tensione finanziaria la si può avere indipendentemente dalla propria capacità di gestire e quando ti arriva un fenomeno come questo ti investe come un treno e c'hai poco da farci va bene allora Antonella dice beata te che non hai debiti e raterizzazione e pregresse no allora sicuramente la situazione il problema è che magari in questo periodo salteranno dentro anche quelli che non hanno bisogno di questa cosa e spostano e quindi causano ancora più problemate cosa ti devo dire il problema questo va anche alla coscienza e all'etica professionale di tutti quanti detto questo sicuramente guardare avanti perché questa cosa qua ragazzi non ce la togliamo nei prossimi 15 giorni così scoccando le dita quindi ce la teniamo per un bel po' mettetevi l'animo in pace però a fronte di un atteggiamento positivo io penso che i parrucchieri come categoria saranno i primi a ripartire quando riparte quando riparte la cosa saranno in pole position come sono stati in pole position a prendere diciamo la mattata sui denti saranno i primi che ripartiranno da un punto di vista di incasso piuttosto che guarda sono pienamente sono assolutamente convinto anch'io che i parrucchieri anche le estetiste saranno tra i primi a ripartire perché secondo me insieme a loro sarà anche la ristorazione saranno altri i settori che avranno maggiore difficoltà perché io credo che nel momento in cui torneremo ad essere liberi come siamo sempre stati come siamo abituati come giusto che sia di poter girare di poterci incontrare di poterci abbracciare di poterci di poter fare la nostra vita normale di esseri umani io credo che andare dal parrucchiere o andare dall'estetista sarà per il cliente un momento di festa un momento di ritorno alla normalità un momento di prendersi cura di sé un momento di liberazione da quello che è il pensiero e da quello che è la costrizione e la limitazione della nostra libertà di questi giorni quindi io sono assolutamente convinto ragazzi che adesso dobbiamo stringere i denti ma dopo sarete e lo auguro vivamente tutti quanti investiti da una molle di lavoro che forse mettiamola così potremmo trovarci davanti a dieci mesi consecutivi di Natale dopo adesso quest'anno potremmo fare Natale dieci volte andiamo avanti allora per rispondere a Eli penso che comunque siamo più o meno tutti sullo stesso petto il problema non è soltanto l'affitto oppure una rata di mutuo ma tutto quello che si somma l'affitto IVA contributi stipendi fornitori più l'azienda è grande e più va prima in agonia diciamo perché le spese sono altissime ovvio che in questo momento chi ha una struttura snella molto snella può magari far fronte anche più facilmente nel senso che se io sono se io ho il negozio in quattro muri che erano della nonna e me lo lascio usare gratis lavoro da solo e via di seguito capite che l'impatto del volume dei problemi è sicuramente inferiore rispetto a uno che sta comprando i muri e ha un mutuo perché li sta pagando ha sei dipendenti compra 70.000 euro di merce all'anno fa investimenti pubblicitari ha consulenti ha una serie di cose capite che l'impatto è nettamente diverso però la barca è la stessa per tutti esatto diciamo da valorare Sofi Santino Simona è verissimo loro hanno aperto da poco il secondo salone ogni negozio paga 1500 euro in più più dipendenti eccetera lei è preoccupata non per i 15 giorni è il dopo lo so però ragazzi dovete tenere conto anche una cosa il 16 del mese arriverà il versamento IVA ora di questa cosa parlatene con i vostri commercialisti ma ecco perché torno a farvi l'invito dell'inizio della nostra diretta di segnare su un foglio se non usate un sistema informatico se non lo usate perdonatemi siamo nel 2020 iniziate ad attrezzarvi perché perché non se ne può fare veramente a meno beh questa è una volta buona speriamo speriamo perché bisogna fare un salto avanti ragazzi nella capacità di gestire la propria attività bisogna fare un salto avanti Ettore Perencini penso che alla fine questa situazione si superi tutti insieme e questo periodo ci servirà per tornare più forti grazie ai suggerimenti utili ragazzi datevi a leggere dopo quando avete un minuto il post che abbiamo messo un'oretta fa su una poesia che sta girando adesso in rete che è davvero toccante e rende proprio l'idea del momento assolutamente ti dicevo quindi è ancora più utile adesso fare questa gestione dei costi fare questo elenco di voci di scosto perché ragazzi se non conosciamo tutte le voci di costo che dobbiamo affrontare nel prossimo periodo non siamo in grado di intervenire su ognuna di queste ci sono alcune sulle quali confidiamo in un intervento del nostro governo quindi rimandare il versamento dell'IVA piuttosto che il pagamento dei contributi e via di seguito già grazie all'ABI è uscita la possibilità di spostare mutui finanziamenti in avanti di un anno e quindi di bloccarli praticamente quasi diciamo il 95% dell'importo per un anno ma su altre cose dovete muoverevi e intervenire voi non potete stare lì ad aspettare che arrivi qualcuno e vi risolva i problemi io vi dico cosa fare però poi dopo voi lo dovete fare cioè dovete mettervi in gioco e farlo ecco una cosa per mettere diciamo no no mettiamo diciamo il versamento IVA scusami diciamo il versamento IVA parlatene col commercialista noi confidiamo che prima del 16 arrivi un decreto del Ministero dell'Economia che dia la possibilità di non fare il versamento IVA del 16 di marzo eventualmente sappiate che l'IVA è una di quelle di quei versamenti che se non viene fatto adesso si può fare anche dopo pagando il ravvedimento peroso ovvero che cos'è il ravvedimento peroso non la pago oggi la pago in ritardo di un giorno di una settimana di un mese un per cento due per cento dieci venti l'uno per mille il tre per mille su base annua in più che sono spiccioli euro cioè su mille euro saranno due euro tre euro per il ritardo una roba del genere la potete pagare anche dopo un mese o dopo due mesi però ripeto parlatene col vostro commercialista però dovete prendere coscienza dell'elenco delle voci di costo che avete affrontarla una per una ok tra l'altro presuppongo che sospenderanno diciamo il fatto di pagare gli interessi se lo paghi in ritardo in un momento come questo però mai mai dire mai mai dire mai però intanto noi dobbiamo prepararci sulla base di quello che è oggi poi se domani ci danno degli aiuti ci siamo preparati e la situazione sarà ancora migliore rispetto a come ci siamo preparati perché ci daranno anche degli aiuti ma iniziamo a prepararsi ecco una cosa per tirare virgolette su un po' il morale che è il modello malcomune mezzo gaudio è che ricordate ragazzi che non siamo soli cioè non è un problema della Lombardia o anche dell'Italia o anche dell'Europa parrucchiere è un problema mondiale quindi questa volta non è se c'è stato il terremoto e poi l'abbandoniamo lì con tutta la cosa la tragica di un evento così ragazzi è un problema di scala mondiale e adesso lo è anche ufficialmente perché l'OMS ha dichiarato che è pandemia non è un'epidemia è una pandemia tant'è che l'America ha bloccato per 30 giorni i voli da e per l'Europa l'America ha bloccato il campionato di basket stamattina adesso portano anche la serie A vedrai ma ci mancherebbe ma è ovvio Formula 1 McLaren non correrà in Australia ma tanto non correrà nessuno perché è stato quello trovato positivo quindi ragazzi non è che dovete stare tranquilli perché è un problema di tutti dovete stare in virgolette propositivi perché questa cosa qua la dobbiamo risolvere tutti nel mondo non è che sia un problema dei parrucchieri no noi siamo qui per fare gruppo tra di noi che apparteniamo all'interno di tutto il mondo che ha questo problema apparteniamo ad una categoria gente che lavora nel mondo del beauty e quindi ci conosciamo e sappiamo quali sono le nostre difficoltà della nostra tipologia di attività e ci troviamo qui per darci una mano non l'altro ok Fabi dice che lui lì va programmata ha detto di tenere le sue spese da questo mese cioè Fabi la vedo sul pezzo Fabi Fabi Fabulla è una mia cliente ah e vabbè allora te l'ho servita su un piatto d'argento non era preparato è un mio cliente ciao Fabi va bene adesso mi sono perso un po' di messaggi ragazzi scusate allora voi consigliate un software anche a chi lavora da solo consigliate allora ragazzi il software è un'utilità che ti deve dare una grossa mano nel semplificarti e nel migliorarti la gestione della tua azienda negozio che sei da solo che sei in 50 l'attività va gestita meglio la gestisci più la organizzi più la comandi uno che ha ovviamente a livello di gestione chi è da solo ha delle esigenze diverse da uno che ha 50 operatori perché siamo sinceri uno che ha un negozio con 20 persone che lavorano dentro non cerca di guadagnare il suo problema non è portare clienti in salone il suo problema non è fare chissà che cosa è probabilmente gestire meglio i costi contenerli ottimizzare gli acquisti e via di seguito ma sono cose che riguardano anche chi è da solo chi è da solo ha un obiettivo primario ancora superiore qual è crescere crescere e quindi un software se fatto bene se fatto da chi conosce bene questo settore ti deve aiutare in questo nel gestire meglio nel lavorare meglio nel darti delle potenzialità che oggi non hai tipo fare marketing e comunicazioni con i tuoi clienti quando sono fuori dalla porta perché ragazzi scrivere una promozione all'ingresso serve solo per regalare sconti a chi sta già venendo in negozio da voi non serve nient'altro andiamo avanti allora Riccardo Testa scusa invece la sospensione delle bollette no Riccardo guarda io di questa cosa che ha detto anche prima un'altra nostra amica sto cercando ma non leggo niente probabilmente forse arriverà però usiamo il condizionale ma non diciamo cose di cui non siamo sicuri le cose le diciamo nel momento in cui sono certe e riportate da fonti assolutamente certe lui aggiunge lui economicamente non chiede niente vorrebbe soltanto che congelino i pagamenti la ripresa sicuramente ci sarà poi provvediamo a pagare tutto mi piace l'atteggiamento eh sì piace anche a me è un è un è un ottimo atteggiamento vi devo dire che questa mattina girava un articolo eh via whatsapp via telegram via vari eh del quotidiano italia oggi nella sezione diritto e fisco eh che diceva eh fisco sospensione al photo finish corsa contro il tempo per gli adempimenti del 16 marzo ora qui parlava di bollette cose varie però se vi riferite ad articoli come questo sono articoli che parlano di voci di corridoio sì mio cugino mi ha detto che conosce uno ma magari c'è anche c'è anche l'intervista se non ho letto male se non ricordo male a qualcuno che è dentro nella sala dei bottoni ecco no guarda c'è proprio l'intervista al ministro dell'economia eh Gualtieri che dice stiamo valutando stiamo studiando di fare questo di fare quell'altro ma finché lo valutano e lo studiano e non lo scrivono nero su bianco e il ministro dell'economia e il presidente del consiglio gli mettono la firma in fondo sono chiacchiere al vento e quindi noi non lo scordiamo andiamo avanti allora Carmelo Sinata ti tiro un po' perché siamo un po' tirati con i tempi e non voglio portare la discussione su adesso c'è il coronavirus moriremo tutti mi ha detto questo mi ha detto quello parliamo solo di quello che c'è oggi per fare diciamo chiaretta il più possibile Carmela è bello è peccato che noi non ci parliamo tra i colleghi del posto ci si guarda sempre con diffidenza è vero però un po' questa cosa tanto è vero quanto hanno coesione a volte tanto è vero quando c'è un po' di confidenza sì io allora io dico sempre che i parrucchieri sono malati dei capelli quando gli parli di capelli si mettono tutti insieme fanno dei gruppi incredibili e così via e secondo me si dedica anche è vero che il vostro lavoro è sui capelli della gente però dovreste trovare anche un attimino un ritaglio di tempo per dedicarvi al lavoro che non si fa sui capelli della gente e come tutti quanti a questo mondo non sono solo i parrucchieri dobbiamo imparare che molto spesso con i nostri colleghi possiamo fare gruppo e avere uno scambio notevole di informazioni e di aiuto e di aiuto reciproco sarà una debolezza umana non lo so io ultimamente con i miei clienti tanti stanno scrivendo in questo post perché i nomi che tu leggi io li riconosco in questo periodo stiamo cercando tra di noi proprio di fare gruppo di uscirne insieme ed è il modo migliore ed è il modo che ci porterà sicuramente ad uscire ecco che alla puliese ciao io sinceramente ho sospeso tutto ho pagato solo lo stipendio del dipendente rimango positiva poi vedremo il da farsi ora rimango a casa è bello questa cosa che hai cancellato tutto tranne lo stipendio del dipendente perché il dipendente ragazzi è la vostra risorsa le risorse non sono i muri sono le persone che sono dentro e poi e poi perché allora innanzitutto bravissimo Romano ricordatevi sempre che un'impresa la fanno le persone questo è un caposaldo la fortuna di un'impresa la fa la fanno le persone che lavorano all'interno dell'impresa quindi infatti si dice sempre che una delle più grandi capacità che si chieda ad un vero manager di ad un vero gestore di attività è quello di scegliersi le persone giuste con cui lavorare quando tu fai questa operazione hai già fatto più del 50% hai già raggiunto più del 50% del successo della tua attività poi perché sotto anche il profilo umano che è un profilo che in questo momento non dobbiamo assolutamente dimenticare cioè ovvero noi qua siamo preoccupati per pagare i conti siamo preoccupati perché non possiamo andare a lavorare tutto quello che volete ma questi sono numeri sono soldi e i soldi non hanno alcun aspetto umano bisogna non dimenticarsi assolutamente dell'aspetto umano il vostro collaboratore è una persona anche lui come voi che ha le sue difficoltà analoghe alle vostre noi abbiamo da pagare le riba abbiamo da pagare i fornitori lui probabilmente ha da pagare il mutuo e da mantenere i figli ecco e quindi diciamo allora Riccardo Testa tocca un argomento che mi hanno chiesto di trattare più volte mi hanno mandato anche post pubblica questo sugli abusivi sono convinto che in questi giorni penseranno a darsi un grande affare ma io non lo so guarda cioè se dovessi oggi suonare qualcuno alla mia porta io non aprirei allora a parte il fatto che suon abusivo viene a casa tua spiegami cosa viene a fare perché ecco con la boccia sono cattivo lo so ma solo perché siamo amici mi permetto di farlo allora detto questo allora ragazzi è vero che la madre degli imbecilli è sempre gravida ok uno che va in giro in questi giorni a fare l'abusivo è tanto se non forse più imbecille di uno che va in giro fregandosene e non se ne sta a casa fregandosene della disposizione del presidente del consiglio perché se vi ricordate si esce solo per tre motivi ben precisi quindi vorrà dire e visto che stanno facendo i controlli ma sapete cosa vi dico ma auguriamoci che vadano in giro gli abusivi così oltre che è la volta così che oltre che beccarsi una bella denuncia per essere in giro anziché essere a casa si beccano anche la denuncia